Complimenti mister, siamo in diretta su Rete8 Sport. Allora mister, è arrivata quest'altra vittoria, la seconda consecutiva, siete a punteggio pieno in prima posizione con le migliori delle condizioni per poi andare ad affrontare l'Aquila in casa domenica all'Angelini. Io l'ho detto alla vigilia, è una partita che temevo, una partita importante, soprattutto come l'abbiamo vinta e quindi ci deve dare ancora un po' più di entusiasmo che però deve finire entro stasera perché poi domenica se non facciamo risultato domenica è inutile questo tipo di vittoria perché venirci adesso alla seconda di campionato qui a Pescara sarà molto più complicato anche se conosco i loro ragazzi, si impegneranno sempre però venirci alla fine del campionato potrebbe essere diverso che di venirci adesso perché loro volevano vincere perché vincendo si rimettevano in qualche maniera in corsa, non vincendo, perdendo, non dico che sono fuori dei giochi ma quasi perché c'è un mini campionato. Però io ripeto, ribadisco che oggi è stata una bellissima impresa e non deve essere vanificata. Poche occasioni nel primo tempo, anche se dobbiamo dire che soprattutto Galli si è sacrificato tantissimo in fase di appoggio, ha guadagnato diversi falli, poi c'è stata questa svolta con l'ingresso degli altri due attaccanti soprattutto con Fabrizio che poi è il risultato del match winner. Sì, ma perché loro hanno questo modo di giocare così con lanci lunghi, noi l'abbiamo preparata poi venirci uno in meno ancora, cercare di costruire è stato difficile, sono stati bravi difensori a gestire anche in quei momenti la gestione della partita è stata fatta bene e poi è chiaro che io nel secondo tempo avevo già preparato all'intervallo questo tipo di scelte perché le ho grazie alla società che me l'ha messa a disposizione e i ragazzi sono stati spettacolari, ma soprattutto quelli che erano in tribuna sembravano degli ultras scatenati e lo spirito almeno è quello giusto. Poi dove arriveremo non lo so, ma noi arriveremo comunque fino alla fine. Ecco comunque, tre punti di vitale importanza anche perché lei l'aveva detto alla vigilia questa è la trasferta più difficile di tutto il campionato. Io ho detto che la partita più difficile in questo momento, di altre trasferte difficili ce ne saranno anzi anche più complicate di queste, però al momento questa era la più difficile non ho detto che è in assoluto la trasferta più difficile. Le prossime trasferte saranno ancora più complicate, però adesso testa a domenica prossima già da domani con la giusta attenzione come abbiamo fatto questa settimana ci mancherà un giocatore come Cristiano Verna, ma se i presupposti sono quelli di oggi i ragazzi lo hanno ripagato alla grande, lui li ha ringraziati prima nello spogliatoio.